Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera retta autostradale toscana e sulla FIPILI. Guidare con prudenza per la nebbia a banchi in A1 tra Chiusi Chianciano e Favro, in A11 tra Chiesino Zanese e Capannori e in FIPILI tra Firenze e la diramazione per Pisa. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero, senso unico alternato per Frana tra Popiglio e La Lima al chilometro 68 e 950. Senso unico alternato per Lavori tra i chilometri 60 e 50 e 60 e 250 tra Stracaccio e Giardinetto. Infine per i traghetti la corsa Toremar da Piombino a Portoferraio via Cavo delle 12 e 20 è stata cancellata per maltempo. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comuni di Firenze. Buon viaggio!